Con Simone Russini è inevitabile o doveroso cominciare dal gol perché è davvero di eccellente fattura. Sì, sono contento perché comunque quando segni è sempre una cosa bella, però più che altro non sono soddisfatto del fatto che dopo aver fatto gol hanno pareggiato, quindi abbia portato a casa solo un punto. La crescita dopo l'infortunio, come ti senti, a che punto siamo e trovare comunque questo minutaggio penso ti aiuti certamente. No, no, sto bene ora perché comunque avendo saltato tante partite, essendo stato fuori tanto tempo, comunque rientrare anche al pari degli altri a livello fisico, cioè è dura. Però comunque è male ogni giorno, poi quando il mister vuole fare giocare un po' di più, un po' di meno, queste sono scelte che fa lui. Comunque credo che tutti meritiamo di giocare e tutti siamo nelle condizioni per poter far bene. Le ultime due partite del giorno in andata sono ovviamente all'opposto rispetto a questa perché giocate contro l'ultima e un'altra squadra che lotta per salvarsi. Cambia qualcosa? Sono magari paradossalmente più difficoltà con squadre che vi possono concedere meno? No, no, no. Noi dobbiamo affrontare ogni partita con lo stesso atteggiamento. Non dobbiamo avere l'assillo che è l'ultima in classifica e quindi dobbiamo vincere per forza. Anzi, dobbiamo sempre lottare per portare a casa i tre punti, che sia la prima, che sia l'ultima, che sia quella davanti a noi. Non è un problema.